Così è il calendario, non è che scegliamo quando andiamo bene di continuare a giocare, però prima facciamo in modo di vincere domenica, perché prima di una sosta sempre si deve fare un risultato positivo per non darvi biscotti a voi durante 15 giorni soprattutto, e quindi concentriamoci su questa cosa e poi noi seguiremo ovviamente i nostri giocatori dappertutto nel mondo e la cosa importante per loro vince con le loro nazionali e per noi è tornare senza infortunio, solo questo.